Il 2022 si chiude con una serata all'insegna della musica d'autore a Corato. Da Piazza Cesare Battisti la città saluterà l'arrivo del nuovo anno con il concerto di uno degli artisti più conosciuti ed apprezzati del panorama musicale italiano e internazionale, Vinicio Capossela. Sarà lui il superospite di un veglione collettivo in programma per la notte di San Silvestro, il Rolling Spons Review, un evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione culturale Lavorare Stanca. Cantante, polistrumentista e scrittore, Vinicio Capossela è autore ed interprete di brani passati alla storia come Che cos'è l'amor e il ballo di San Vito, solo per citarne alcuni dei più famosi. Canzoni che hanno fatto di lui uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana a partire dagli anni 90 fino ad oggi. L'artista torna in Puglia, sul palco allestito nella centralissima piazza di Corato, per guidare il pubblico in un viaggio alla scoperta del pianeta Capossela, tra le sonorità coinvolgenti e variegate della sua vastissima produzione discografica. Una grande festa catartica, delirante ed emozionante, così come l'ha definita il comune di Corato, che ha annunciato l'evento con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook. L'ultimo passaggio di trasformazione è l'ultimo grande rito di questo 2022 di Verso Sud, progetto artistico-culturale nato proprio a Curato, curato dall'associazione Lavorare Stanca. Un appuntamento imperdibile per tornare a celebrare il nuovo anno come avveniva prima della pandemia, con un caloroso abbraccio di piazza per farsi contagiare dalla magia della musica.